Una buona giornata a tutti, un saluto a tutti, a tutte, carissimi amici, carissime amiche di questo canale. Stamattina vorrei insegnarvi un rituale che è un rituale, secondo me anche questo, importante per chi si trova ovviamente nel problema. Quale problema? Questo rituale serve a contrastare il vizio dell'alcol, il vizio del bere. Quindi con questo lavoro noi possiamo portare una persona via via ad avere disgusto dell'alcol di qualunque natura, che sia la birra, il vino, i superalcolici e portare questa persona a non bere più. Potete farlo per voi stessi se avete questo problema. Potete farlo per un familiare, per esempio, per un caro amico, una cara amica che ha grossi problemi con l'alcol. Allora, carissimi e carissime, cosa serve? Vi serve un poco di latte, di latte. Vi serve un poco di aceto, normale aceto da cucina. Un bicchierino di quelli, diciamo, usa e getta, di carta, di plastica, un bicchierino così. Un pezzettino di carta e una penna del colore che preferite, o blu o nera in genere, oppure anche un lapis. Questo lavoro potete farlo quando volete, non ci sono lunazioni, non ci sono giorni, non ci sono orari. Lo fate quando vi sentite di farlo, con fede, molta fede e molta concentrazione. Cosa andiamo a fare? Andiamo a scrivere il nome della persona che ha il problema con l'alcol sul foglio di carta. Io scrivo Antonio Torre. Va, mettiamo un cognome così. Mettete la data di nascita, mi raccomando, se potete. Mettete la data di nascita, io metterò 28 novembre 1989. Eh? Una cosa di questo genere. Basta una sola volta. Se proprio non avete la data di nascita, dovreste averla in teoria. Voi scrivete nome, cognome e fate tre croci, che simboleggiano, come vi ho già detto altre volte, il giorno, il mese e l'anno di nascita. Prendete questo foglietto, lo piegate sette volte. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Sette volte. Lo mettete dentro il bicchierino preparato. Andate a mettere dentro un po' di aceto. Non ne serve molto. Così. Andate a mettere dentro un pochino di latte. Che non ho aperto, ma vado a aprire con voi in diretta. Allora, apriamo il latte. Mettete dentro un pochino di latte. Non importa tantissimo. Voilà, così. Voi sapete che, a livello anche ovviamente naturale, latte e aceto, o limone e aceto, comunque acido più latte, va a fare una forma di caglio, eh? Una forma di quagliatura. È quello che noi vogliamo ottenere a livello spirituale con la persona che ha il vizio di bere. In modo che ogni qualvolta va a bere, ad assaggiare bevande alcoliche, a consumare bevande alcoliche, questa energia, di questo feticcio, di questo lavoro magico, porti proprio nello stomaco un senso di disgusto, di malessere, si dice nojo in portoghese, in brasiliano, di schifo, verso le bevande alcoliche. Una volta che avete fatto questa operazione, voi andate con questo bicchierino, con il suo contenuto, un poco di latte, non tanto, un poco di aceto, il nome scritto sette volte, e andate a interrarlo, eh? È importante che questo lavoro sia interrato, sia messo dentro madre terra. Perciò, con la palettina, con un coltello, con un cucchiaio, scavate dove potete, in una zona dove c'è della terra, che l'abbiate fuori di casa, nel giardino, che l'abbiate magari fuori nella strada, in un pezzo di terra, sotto un albero, sotto delle piante. In sintesi, dentro la terra, andate a fare una buca, una buchetta, mettete dentro questo bicchiere, andate a ricoprire il tutto, e andate a fare una orazione, una preghiera, con il vostro cuore, con la vostra anima, con la vostra fede, a San Benedetto. Ripeto, a San Benedetto, quindi, ehm, con vostre parole, salve San Benedetto, ti chiamo, ti invoco, invoco la tua maestà, la tua luce, la tua potenza, i tuoi poteri, o San Benedetto, affinché questa persona, oppure io medesimo, se lo fate per voi, possa finalmente liberarvi dal vizio dell'alcol, possa avere disgusto, malessere, schifo, ogni qualvolta nel mio corpo, nel mio stomaco, entra l'alcol, io possa avere veramente disgusto, disinteresse, eh, nessuna attrazione per ogni bevanda alcolica, da ora in poi. San Benedetto, mi rivolgo a te, affinché tu mi aiuti nel liberarmi di questo vizio. Quindi, a parole vostre, pregate il santo, ehm, come ci tramanda la tradizione, eh, che agirà liberandovi eh, dal vizio del bere. Ed è San Benedetto, chi vuole può anche, se vuole, stampare una sua preghiera, se volete fare una preghiera magari classica, ma dovete fargli la richiesta che, così come voi avete, eh, interrato questo latte e aceto nella terra, così questo composto diventi una, una forma magica che vi procura, come vi ho detto, disgusto, eh, malessere, disinteresse totale per ogni tipo di bevanda alcolica, che il vostro vizio alcolico si spenga, eh, questa è la pratica di questo bellissimo lavoro che dovete fare con molta fede chiedendo proprio eh, a San Benedetto di aiutarvi, ok? una volta chiaramente che avete ricoperto la la buchetta con la terra, vi girate, andate via tranquillamente lasciate tutto il lavoro là sotto, eh, e aspettate con fede e con calma chi prima, chi dopo, che questa magia ovviamente abbia effetto nel vostro spirito e nel vostro corpo fisico. Se avete determinazione, se avete fede, questa è una delle più antiche forme di lavoro per liberarsi dal vizio dell'alcol. Eh, ultima cosa, Simonetta, esempio, posso ripetere il lavoro? Sì, potete ripetere il lavoro, magari osservate voi stessi o la persona per cui lo fate per un tot di giorni, no? Un giorno, il giorno dopo, chiaramente, osservate magari quello che accade nell'arco di un paio di settimane e potete rifare il lavoro anche più di una volta, fino proprio a quando la persona non smetterà completamente di bere e non avrà più attrazione per le bevande alcoliche. Ok? Questo lavoro volevo passarvelo, non è un lavoro né di amore, né di fortuna, né di quello, né di quell'altro, ma potrebbe essere utile a qualcuno di voi o a qualcuno che voi avete caro. Quindi compartite se volete questo questo video e fate questo lavoro, fatelo con fede e vedrete che avrete dei risultati. Carissimi e carissime, per il momento io vi saluto, vado a fare i miei i miei lavori quotidiani che sono sempre tanti e impegnativi. Vi ricordo che se volete un consulto approfondito, professionale, potete richiederlo e chiedere tutte le informazioni sui costi, sulle modalità, eccetera, eccetera, se desiderate dei rituali personalizzati afro-brasiliani, quindi di Kimbanda, di Macumba, Candomblé, di Santeria, eccetera, eccetera, di Vudù, di Udù, potete richiederli sempre chiedendo ogni informazione che volete. Va bene? Per il momento vi saluto, vi faccio i miei migliori auguri per liberarvi davvero, per liberare la persona che vi è cara dal vizio del bere, perché è un vizio veramente deleterio. Vi mando un grande bacione e al prossimo video. e al prossimo video. Grazie.